Prima Pasqua senza divieti di spostamento, boom di prenotazioni nei ristoranti, ma Omicron corre ancora rispetto a un anno fa, contagi 5 volte il 2021, ma ospedali semivuoti. Messaggio di auguri del Presidente Acquaroli. Una preghiera per la pace con gli ucraini, a San Benedetto la diocesi Donauova, ai profughi a Porto Recanati, rivive la bara de notte, storica processione. Andrea, la verità nelle tracce biologiche, analisi dei RIS dal casolare alla roulotte per sciogliere il giallo sulla scomparsa della 27enne. Ascoli sarà esodo a Parma, trasferta di lunedì, playoff quasi ipotecati. In partenza 1.500 tifosi, la Sambora deve ripartire. Dopo il capo di Castelnuovo diventa fondamentale il recupero col vasto Girardi. E ben ritrovati insieme con il TG Marche. Prima Pasqua senza restrizioni e divieti di spostamento, ma la circolazione del virus è piuttosto alta perché Omicron 2 è molto più contagiosa. Facciamo il punto nel servizio di Rossella Luciani. Alla vigilia di Pasqua si sono riviste le code in farmacia per fare il tampone. Due le motivazioni principali, trascorrere più serenamente il pranzo con i propri cari, specialmente se anziani, ma anche per i tanti contatti stretti con i positivi, dato che i contagi scendono ancora troppo lentamente a causa di Omicron 2 e delle progressive riaperture. Nel grafico della Regione Marche la fase di plateau continua, con poco meno di 2.000 casi giornalieri e un tasso di positività del 38,3% nelle ultime 24 ore, calcolato sulla base di 4.659 test nel percorso diagnostico. Oggi abbiamo un alto numero di positività legate al fatto che sono anche dei tamponi mirati. Oggi, al primo sintomo di raffreddamento di raucedine, il cittadino va a farsi il tampone e risulta positivo. Quindi c'è sempre questo discorso che è necessario fare il tampone nel momento in cui compaiono i sintomi. Purtroppo nelle Marche si contano altri sei decessi, tutte persone con patologie pregresse nella fascia di età tra i 75 e i 79 anni. Lo stesso numero di un anno fa, quando le Marche erano però in zona arancione. Nell'ultimo report è levemente risalita il dato dei ricoveri, più 3 rispetto a ieri, con un totale di 145 pazienti che passeranno la Pasqua in ospedale. Un anno fa però il dato era di 718 persone. Oggi solo 6 di essi sono in terapia intensiva, meno 2 rispetto all'ultima giornata. E l'altra buona notizia è che i reparti intensivi di Torrette e Fermo sono covid-free. Ma diciamo che per noi è una Pasqua abbastanza più tranquilla da un punto di vista, perlomeno per l'impegno che hanno le nostre strutture sanitarie. Sappiamo che per esempio non c'è un sovraffollamento, tra virgolette, nelle terapie intensive, nemmeno nelle semi-intensive. E tutto questo bisogna dare merito, contrariamente a quanti possano discreditare, l'efficacia della vaccinazione. Insomma, finché il sistema sanitario regge, grazie alla vaccinazione che ha ridotto i sintomi gravi, si continuerà a convivere con il virus, abolendo i vari divieti che vigevano anche a Pasqua di un anno fa, tra cui quello di spostamento tra regioni di colore diverso. Ma lo scorso anno i positivi giornalieri nelle Marche erano soltanto 326. Oggi sono 1.784 i nuovi casi, per un totale di 9.443 attualmente positivi. E ora ascoltiamo il messaggio pasquale del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che dice il momento della resurrezione, ma anche della speranza. Sentiamo. Se la prima Pasqua da governatore l'aveva vissuta in piena emergenza pandemia, la seconda del suo mandato, il Presidente Acquaroli, la trascorre con altre situazioni delicatissime. È un'emergenza diversa, però è sempre un'emergenza molto importante che coinvolge il nostro territorio, sia nell'accoglienza a tutti coloro che scappano dalla crisi Russia-Ucraina e tutti coloro anche che invece vivono un momento di timore e anche di incertezza dovuto alla crisi economica e alle conseguenze che si stanno vivendo da questa crisi. È un momento difficile, però la Pasqua è un momento della resurrezione, della speranza e quindi dobbiamo restare fiduciosi e dobbiamo essere anche consapevoli che la nostra è una civiltà che ha saputo sempre dare il massimo e ha saputo sempre anche superare le innumerevoli difficoltà che ci sono state poste davanti e credo che la tempra dei marchigiani sarà la tempra che anche in questo momento può fare la differenza. Guardando in prospettiva, Acquaroli si rivolge ai marchigiani con questo messaggio. Qual è appunto il messaggio di speranza per i marchigiani? Io credo che noi abbiamo un grande patrimonio su cui poter investire, che è il patrimonio del nostro territorio, della capacità manifatturiera, artigianale, agricola, i nostri prodotti, la voglia di lavorare, la serietà, l'onestà, sono valori e sono fattori determinanti che se messi a rete possono diventare un patrimonio comune su cui costruire il futuro. Pasqua con il sorriso per i tanti profughi ucraini, soprattutto i bambini ospiti della diocesi di San Benedetto del Tronto. Il Vescovo Bresciani ha infatti donato loro un uovo di Pasqua. Sono circa 120 profughi dell'Ucraina che sono ospitati dalla diocesi di San Benedetto. Il Vescovo Bresciani ha donato loro un uovo di Pasqua a tanti bambini che hanno vissuto almeno un momento di allegria dopo settimane davvero tragiche. Certo, è stato un momento molto bello anche perché il tentativo era quello di dare un pochettino di conforto a questi ragazzi e a queste famiglie che sono così improvvisamente capitati qui fuggendo dalla guerra. La Pasqua è un segno di pace, auguriamo con questo che possano godere un loro momento di pace adesso e che questa pace giunga anche a quella nazione ormai tormentata così fortemente dalla guerra. Noi non possiamo che augurare questo pregando il Signore Risorto perché come ha augurato la pace ai Suoi Apostoli quando è apparso loro dicendo pace a voi, ecco questa pace sia abbondante perché oggi ne sentiamo quanto mai bisogno di fronte ai drammi della guerra. Un messaggio importante è anche quello del Papa nella Via Crucis, molto toccante, venerdì santo. Sicuramente sì, ci ha ricordato che la fraternità va al di là di tutto e che dobbiamo guardarci da fratelli e superare qualsiasi odio, vendetta, rancore, cercare la strada del perdono ai piedi della croce. Ai piedi della croce dobbiamo ritrovarci uniti in l'amore che il Signore Gesù dalla croce fa scendere su ciascuno di noi. Lei parla italiano perché l'ha studiato in Ucraina ma è da pochi giorni qui. Come si sentono, come vi sentite qui in Italia? No, noi sentiamo tanti aiuti per il vostro governo perché grazie a Dio Caritas, questa io penso migliore Caritas che abbiamo in questa zona, non lo so perché noi abbiamo parlato con altre persone, come risolvere altri Caritas, proprio capo di questo Caritas, brava persona, sempre gentile, tutta cosa serve, aiuta a noi, per tutti cose, cosa serve, allora aiutare per tutto. Grazie a Dio tanto per vostro governo, vostro sindaco, perché sicuramente che queste cose hanno organizzato vostri sindaco, vostri persone di politici, grazie tanto. Non sappiamo niente cosa può succedere fra una seconda da noi, capito? Non è che noi vogliamo, certo che noi vogliamo pace, vogliamo vivere bene, perché nessuno non piace vivere qua, non è perché non ne piace, perché tutte donne vogliono vivere in casa sua, capito? Certo che noi credere che questa guerra, vogliamo credere che questa guerra fra poco finire, vogliamo credere questa cosa. Porto Recanati ritrova la sua tradizione storica e religiosa con la processione La Bara de Notte, che era stata interrotta proprio a causa della pandemia. Per noi, Daniela Gurini. Dopo due anni di stop a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia, è tornata La Bara de Notte, la tipica processione religiosa, uno dei riti della Settimana Santa più sentiti e partecipati dalla comunità porto-recanatese, che si tiene la sera del venerdì santo. Una lunga tradizione nata un secolo prima dell'indipendenza di Porto Recanati, dal comune di Recanati. La Bara de Notte è una manifestazione che rivela tante sfaccettature, rievocando la passione cristiana sotto un'ottica di forte spiritualità. Capace di convogliare la religiosità popolare e il radicato folclore marchigiano, chiama raccolta la popolazione cittadina, che si riunisce in occasione di una lunga processione organizzata sin dal 1773, ma ispirata ai riti medievali. Il corteo, che è partito alle 21 davanti alla chiesa di San Giovanni Battista per poi farvi rientro dopo le 23, senza però l'ingresso all'interno della chiesa come da tradizione, ha visto la presenza delle autorità civili e militari, la banda cittadina e del sindaco che ha rivolto una riflessione e un augurio di buona Pasqua. È un ritorno per noi importante a quello che è la nostra tradizione, a quella che è la nostra cultura. Certo, tre anni non ce l'abbiamo avuto, è stata una grande sofferenza per tutta la città e i cittadini di Porto Recanati. Oggi ritorniamo a fare la nostra barra de notte, che per noi è effettivamente e esclusivamente quello che ci accomuna. Questo appuntamento pasquale rappresenta anche un messaggio verso i fedeli, ma non solo verso un momento storico importante. Stiamo vivendo effettivamente una situazione drammatica con quello che sta succedendo in Ucraina e non posso esimermi di mandare un augurio di pace, di buona Pasqua, simbolo proprio della pace a tutti i cittadini ucraini che stanno soffrendo in questo momento. e naturalmente alla città di Porto Recanati. Torniamo a parlare della scomparsa di Andrea, la 27enne di Iesi, che non si trova da diversi giorni. Ebbene, le indagini di RIS andranno avanti anche nei prossimi giorni sul casolare e sulla roulotte. Indagato resta il fidanzato, ma facciamo il punto nel servizio di Thomas Delbianco. Nel primo giorno di accertamenti sul caso legato alla scomparsa di Andrea Rabciuk, i RIS hanno cercato con il luminol tracce ematiche e di DNA all'interno della roulotte. I cani molecolari delle unità cinofile di Bologna hanno fiutato l'interno del mezzo, del casolare e del terreno adiacente. Tutte aree immobili lungo la Monte Carottese, vicino a Moie, posti sotto sequestro. Reperire tracce biologiche e indizi utili per le ricerche della 27enne campionessa di tiro con l'arco scomparsa dallo scorso 12 marzo. Dopo una notte trascorsa nella roulotte, insieme al fidanzato Simone Gresti, indagato per sequestro di persona, al proprietario del casolare Francesco e ad un'altra ragazza di nome Aurora. Ha partecipato agli accertamenti, che andranno avanti anche nei prossimi giorni, il consulente tecnico di parte Andrea Ariola. Sentiamolo. Al momento abbiamo fatto degli accertamenti, abbiamo rilevato alcune cose su cui stiamo e svolgeremo ulteriori accertamenti a seguire. Ma ci siamo mossi su diversi fronti, adesso non vorrei dare informazioni che magari potrebbero non servire o non essere utili. Per noi tutti i materiali li prendiamo sempre in considerazione, li teniamo sempre interessanti. Adesso c'è la prima fase di acquisizione, poi l'analisi e poi vedremo. Situazione, situazione in generale, anche lo status di come stanno certe cose. Le valuteremo. Ma guarda, nella prima fase ci siamo, una parte che abbiamo diviso noi, il tecnicismo nostro, dividiamo le aree in zone, quindi a, b, c, d eccetera, poi a 1, 2, 3, 4. Adesso l'abbiamo fatto nella parte della roulotte e poi nella zona circostante e nel campo che sta retro, perché poi comunque con il cane che utilizza i carabinieri deve avere dei tempi di recupero e di riposo abbastanza proporzionati al tempo di utilizzo. Il cane è sempre utile, è amico dell'uomo, è sempre utile, vuoi prepararlo. Poi i carabinieri sono bravi, quindi fanno fare molto bene il loro mestiere. Lieto fine per la disavventura di un cane caduto in un pozzo di circa 15 metri con all'interno 5 metri d'acqua. I vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona, in località Massignano, per recuperarlo mediante tecniche SAF, Speleo, Alpine e Fluviali. Solo tanto spavento per l'animale e i suoi proprietari che lo hanno potuto riabbracciare dopo gli accertamenti sulle sue condizioni di salute che erano buone. La voglia di normalità vince sulle paure, boom di prenotazioni nei ristoranti di Ancona. Le rose previsioni meteo e l'aumento delle temperature hanno spinto tante persone a prenotare, soprattutto a Porto Novo. Facciamo il punto nel servizio di Ciro Montanari. In questo lungo weekend pasquale abbiamo scelto Porto Novo, una delle perle della nostra regione, come meta per capire le intenzioni della gente e soprattutto per renderci conto se le prenotazioni vanno o meno alla grande, secondo quelle che sono le aspettative nei ristoranti di questa località veramente indimenticabile. Innanzitutto ci siamo resi conto che la gente ha voglia di uscire, ha voglia di tornare a contatto con la natura e poi abbiamo capito che i ristoranti hanno veramente fatto il pieno per Pasqua. Allora vediamo con le interviste ai ristoratori e alla gente la situazione dalla Baia di Porto Novo. Siamo pronti ad affrontare il pienone e siamo anche contenti di affrontarlo, che mette anche un po' di felicità dopo i brutti periodi tra pandemie e vicissitudini varie. Come vi siete organizzati per queste giornate pienissime? Abbiamo richiamato la squadra al completo e ormai siamo abituati ad affrontarli. Per questo weekend e il lunedì di Pasqua siete davvero pienissimi? Siamo pienissimi con veramente gente che ci chiamava, già un paio di mesi hanno cominciato già a chiamarci, quindi c'era proprio voglia di uscire, felicità, mangiare, godere, l'italiano è godereccio. E voi cosa proponete per i vostri clienti? Ma noi sempre il solito menù tradizionale, quindi pesce, pesce fresco, purtroppo non ci sono i moscioli, ma fra poco avremo anche i moscioli di Porto Novo, usiamo quelli di Numana e la nostra pizza di formaggio, quella non può mancare, la colomba naturalmente, giusto per dare un segno pasquale, dai! E dopo la Pasqua continueranno questi numeri? Suppongo proprio di sì. Finalmente abbiamo una bella giornata e quindi il freddo sembra che si sia allontanato, è un effetto estremamente positivo. Ma lo so, si respira aria libera, libertà, libertà soprattutto. In questo momento ci vuole dopo tutto quello che è successo in questi ultimi due anni? Certo. Questo posto è un posto molto particolare, è un posto che diciamo in tutto l'Adriatico rimane inaspettato. Di vacanza, di rilassamento, è molto bello, è tutto molto bello qui. I colori, soprattutto i colori, restano impressi, impressi negli occhi. Ieri c'era la bruma, era bello persino con la bruma quest'angolo. Il calcio, la Serie B, saranno tantissimi tifosi ascolani che si recheranno a Parma per sostenere la squadra in questo cammino verso i play-off. Si parla di 1500 persone. Si sta ricreando quella alchimia squadra tifosi che nei bei tempi c'è stata. Siamo convinti che è come se giochassimo in casa a Parma. E potrebbe davvero andare così. Di sicuro lunedì a Parma, calcio d'inizio alle 18, sarà la trasferta più numerosa della stagione per i tifosi dell'Ascoli, almeno fino a questo momento. A ieri sera 1200 biglietti staccati in prevendita e non è finita, si chiude domani alle 19. Potrebbero essere più di 1500 all'ora, alla fine, i sostenitori bianconeri allo stadio Tardini. L'Ascoli sente da morire il quart'ultimo appuntamento della stagione regolare, incluso patron Massimo Pulcinelli, che nel pieno della migliore stagione degli ultimi 17 anni vorrebbe riscrivere la storia. A Parma, contro la squadra dell'ex Beppe Iachini, ormai fuori dai giochi play-off, i uomini di Andrea Sottile potrebbero ipotecare una volta per tutte gli spareggi promozione. Il vicecapitano Bellusci però non si fida dei Ducali. Almeno cercheranno di chiudere in bellezza il campionato e cercheranno di fare più punti possibili da qua alla fine. La Serie B è difficile, la conosciamo tutti e sicuramente sarà una partita tosta. Gara tosta anche per la Cabala, otto precedenti in Emilia, ma è una vittoria dell'Ascoli e un solo gol nel lontano 1971. Per questa Sottile dovrebbe recuperare Zagut. Lo sapremo solo all'ultimo però perché, contrariamente ad altre volte, come il Parma, pure i bianconeri dirameranno la lista dei convocati solo all'ultimo, per non dare vantaggi all'avversario. Infine, una notizia che arriva da Teramo. Uno dei main sponsor bianconeri, la DNG Service 2008, dell'imprenditore edile di origini siciliane, ma romano d'adozione Giuseppe Spinelli, potrebbe rilevare il club abruzzese al momento in mano ai fratelli Ciaccia. Spinelli è l'attuale patron dell'audace Genezzano, squadra dell'eccellenza laziale. In Serie B, Pasqua Amara per la Samb dopo il K.O. di Castelnuovo. Il recupero di mercoledì con il vasto Girardi è cruciale, proprio in chiave. Play-off. Sentiamo Michele Natalini. Penso che abbiamo una delle squadre più forti in questo momento del girone. Le ultime parole famose, tra le tante, che si possono pescare dalla conferenza stampa del presidente Roberto Renzi, domenica scorsa, dopo la festa per i 99 anni della San Benedettese e la vittoria sul Matese. Parole che suonano stonate dopo la figuraccia di Castelnuovo, la sconfitta che ha mandato al macero 13 risultati utili consecutivi. In Abruzzo si è rivista la squadra tutt'altro che calata nella mentalità della Serie D, capace di sciupare un gol di vantaggio prima e un uomo in più per un'ora poi. Ecco, i proclami non portano bene alla Samb, servirà il solito bagno d'umiltà, ora che i risultati visticciano coi propositi di riammissione in Serie C, play-off da vincere e tutto il resto. A proposito, la Liga ha stabilito le date degli sparigi che coinvolgeranno le squadre classificate dal secondo al quinto posto. La prima fase il 25 maggio, la seconda il 29. L'involuzione rosso-blu di sicuro viene da lontano, a cavallo con lo stop per il Covid e la pausa del torneo. Ora anche le critiche alla gestione dei sanberdiettisi Alfonsi e Visi, che dopo un impatto iniziale hanno perso un po' il tocco. Pasqua Amara, dunque, diventa fondamentale il recupero della 26esima giornata in programma mercoledì a Rivera delle Palme col Vasto Girardi. Sfida posticipata alle 18, manca solo l'ufficialità. Sfida che se la vinci torni a un punto dai play-off, se al contrario la sticchi, le ultime 5 si complicano. Sarà squalificato l'under Lorenzoni. Da ultimo le voci che arrivano dalla capitale, col volubile Renzi che si sta già guardando intorno per la prossima stagione. Un occhio al direttore sportivo, contatti con l'amico Fabrizio Lucchesi del Monterosi e con l'ex Carpi e Siena Andrea Mussi. E contatti pure con l'allenatore. L'ex latina Raffaele Scudieri si sente già rosso blu, tanto che starebbe chiamando giocatori a destra e a sinistra. Ma prima di affacciarsi sul futuro, per la samba altre sei partite, l'udienza al TAR del Lazio del 17 maggio e gli eventuali play-off. E anche per questa edizione è tutto. Grazie per essere stati con noi. Un buon proseguimento. Arrivederci.